Sì, sono la professoressa Caputo dell'Istituto Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova, insegno economia. Ringraziamo la G Gallery per questa ottima opportunità che ha dato ai nostri ragazzi, perché in questo modo loro hanno potuto vedere e toccare con mano quello che poi potrebbe essere la realtà del loro lavoro in futuro. Io uso molto Instagram, sono abituata e quando ne abbiamo parlato in ufficio mi è stato chiesto di effettuare delle ricerche per alcune aziende ed è stato bello vedere come si opera in questo settore, come sia utile fare delle ricerche per vedere chi lavora bene, chi fa delle cose belle e prendere spunto da tutto ciò. È stato anche bello vedere come una cosa che io utilizzo tutti i giorni possa risultare utile anche nel mondo del lavoro. Durante il mio periodo in alternanza ho avuto modo di lavorare con la suite di Adobe e imparare piccole cose che possono rendere più veloce il mio lavoro. Ho anche avuto modo di vedere come ci si rapporta con un cliente e con diversi tipi di clienti che hanno diverse esigenze. Ho realizzato alcune grafiche per i social e penso sia molto utile perché soprattutto al giorno d'oggi sono cose fondamentali nella vita di tutti i giorni e che si possono riscontrare in ogni tipo di lavoro. Sono molto contento che Gigalli partecipi al progetto Alternanza Scuola-Lavoro perché mi fa sempre piacere accogliere in ufficio ragazzi giovani che arrivano dalla scuola. Abbiamo lavorato insieme a grafiche e soprattutto per i social media e mi fa sempre molto piacere ed è molto utile per me avere il punto di vista di ragazzi più giovani che utilizzano social nuovi come Instagram, come Snapchat e mi insegnano magari che Facebook con cui noi lavoriamo per lo più per loro è già un pochino fuori target. Insomma ho imparato sempre un sacco di cose. Le ragazze sono state gentilissime, molto brave e sono sicuro che con un po' di esperienza ulteriore possono già competere nel mondo del lavoro. Senz'altro devono continuare i percorsi di studi anche perché i software che abbiamo utilizzato sono software che continuano ad aggiornarsi anno dopo anno. Sono certo che le loro capacità e il loro gusto potrebbero permettergli di entrare nel mondo del lavoro molto facilmente. Grazie. 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 Grazie.